Siamo poco sotto il 50 milioni di euro, di cui 33... 26 progetti in corso per 30 milioni di investimenti, di cui 23 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 7 del Comune di Fano. A tanto ammontano gli investimenti che la Giunta Sera ha messo in campo per nuove opere, riqualificazioni, difesa della costa e di altre zone del territorio e messa in sicurezza di dati e documenti nell'ambito del piano dedicato alla cittadinanza digitale. Ad illustrare i dati questa mattina sono stati il primo cittadino e l'assessore al bilancio Sara Cucchiarini insieme all'ingegner Federico Fabri. Negli ultimi sei mesi abbiamo investito in quattro settori soprattutto, 3 milioni e 300 mila euro di investimenti su due azioni per lo sport, nello specifico la pista Zengarini. Il secondo settore importante di intervento è quello dell'idilizza scolastica dove ci sono investimenti per circa 8 milioni di euro con tre diverse azioni che sono due nidi, quello di Girasole in via della Colonna, il nido di Bellocchi e l'importante secondo stralcio della scuola materna di Cucurano, un'opera che da sola pesa 5 milioni di euro. Il terzo settore di intervento è quello della messa in sicurezza del territorio con tre diversi progetti che riguardano il rifiorimento delle scogliere, le fognature di Sassonia, zona Orti e la sistemazione idrogeologica di Carignano in un'area diciamo a Carignano. Queste tre importanti opere per 4 milioni di investimenti. Poi l'ultimo settore, importante settore di investimento, è quello della digitalizzazione che porta ad un'importante implementazione di hardware, software e sistemi in generale quindi un passo avanti anche da parte del Comune di Fano con investimenti di un milione di euro del PNRR che sono finanziati in questo caso al 100%. L'assessore è poi intervenuta sui rimborsi della tassa su rifiuti concessi ad alcune famiglie che hanno potuto beneficiare degli sgravi in base all'ISEE. Le 3 mila utenze non domestiche hanno già ricevuto il rimborso mentre quelle domestiche solo in parte. L'operazione, assicurato Cucchiarini, si concluderà entro Natale. In conferenza sono stati citati anche altri investimenti come quelli per la piscina e per la manutenzione straordinaria del torrente Arzilla. Voglio sottolineare che da oggi fino a giugno ci sarà una città in cantiere perché partiranno 50 milioni di cantieri quindi vedrete anche qualche disagio ma quando si fanno opere i disagi finiscono e le opere rimangono. Sono tante risorse che portano a migliorare la qualità della vita, a rendere più bella la città ma non solo la città anche i quartieri e gli interventi sono su più fronti da quelli delle riqualificazioni, dalle messe in sicurezza, da nuovi servizi pensate ad esempio alle scuole. Quindi un bel risultato ed è anche una bella soddisfazione per noi. Fra l'altro io vorrei ricordare che Fanno non essendo città capoluogo non ha potuto partecipare ad una serie di opportunità e questo dal mio punto di vista è una vergogna sulla quale ho fatto rimostranza e continuerò a farlo quindi il risultato ha ancora più valore proprio perché lo abbiamo fatto in una situazione di maggiore difficoltà.